Tu stasera devi avere il coraggio di dimetterti, a me non me ne frega se c'è un altro anno di contratto, se c'è una sola partita rimasta, tu stasera ti devi levare dai coglioni! Punto! Io ho sempre detto, dalla sconfitta con la Roma, che ogni partita non sarebbe più contata niente da qua a fine stagione, e non ho mai cambiato la mia opinione. Vi ho solo chiesto una cosa, una! Ma, finite la stagione giocando delle partite normali, normali! Niente, non ce l'avete fatta! 43, 43 gol subiti, no? Non so se la statistica è stata aggiornata, però potrebbe essere che siano anche di più. Vediamo un po', 46 gol subiti in campionato. E in campionato perché ci sono quelli nelle coppe, vogliamo fare il conteggio? 3 dal PSG sono 49, 50 al ritorno, 53 col Borussia Dortmund e 54 con Newcastle. Poi arriviamo ai 2 dell'Atalanta in Coppa Italia, sono 56, 57 con quello del Cagliari. 3 dal Rennes sono 60, Slavia Praga te ne ha fatti, 3 sono 63, e con la Roma sono 66 gol subiti in 54 partite. E questo Pioli è opera tua, opera esclusivamente tua. Vi ho chiesto di arrivare a fine stagione in maniera tranquilla, poiché ci sono, c'erano 6 calvari, 6 perché queste partite, vedersi queste partite, che se vinca 5-1 col Cagliari o la partita di stasera rimane un calvario, perché ripeto, vittoria, pareggio, sconfitta, non conta più niente, però vedere delle partite così, lo stesso, è estremamente frustrante. E conferma di più la teoria che porto avanti da mesi che tu, l'estate scorsa, dovevi non cambiare squadra, cambiare lavoro, lavoro! Ti dovevano far cambiare lavoro. Però ci sono alcuni allenatori che hanno avuto il coraggio di dimettersi, non sto parlando di Sarri. Ci sono allenatori che sono stati esonerati, Allegri è stato esonerato con un trofeo. Con un trofeo hanno esonerato Allegri. E niente, domenica prossima mi toccherà ancora vederti, toccherà ancora vederti, sarà l'ultima volta, io me lo auguro, ma dovrò ancora vederti un'ultima volta. Perché io mi prendo la responsabilità di ciò che dico, Pioli, stai lasciando dei danni in questa squadra che saranno irreversibili. Io ti devo dire grazie, ti devo dire grazie per lo scurito di tu anni fa, io ti dico vaffanculo, io ti dico vaffanculo, ti devo dire grazie, ti devo dire grazie che da cinque gol sono più le volte che li hai presi di quelle che li hai fatti. Che hai perso punti contro squadre ne ho promosse, già retrocesse, già salve, che hai fatto vincere e pareggiare cani e porci. Hai preso gol da Riccardo Rodriguez che è il secondo gol che fa in Serie A in otto anni che ci gioca. Oggi hai preso due gol uguali, due gol uguali, dallo stesso lato, nello stesso modo, con lo stesso schieramento difensivo. Due gol uguali ti sei preso. E c'è gente che mette di mezzo i giocatori? Ma voi le guardate le partite o vi spippettate mentre le guardate? Fatemi capire un secondo. Voi le guardate le partite o fate finta? Voi le guardate le partite e vedete che i giocatori fanno anche troppo. Che stanno giocando al 30% del loro potenziale per colpa esclusivamente sua. Non ve ne rendete conto perché non ce la fate, rendevene conto. Non ve ne rendete conto che i giocatori prendono palla. Alzano la testa e non vedono nessuno. Tutti gli attaccanti si tuffano in avanti nella speranza che qualcosa possa succedere, che possa arrivare una palla sporcata da un difensore avversario. In predal non si so cosa, poi ovviamente... In predal non so cosa, poi ovviamente che succede? Che questi si prendono il contropiede, in difesa ci sono due persone e prendiamo due dei tre gol di oggi. Il terzo sarà anche un euro gol, ma è il quarto gol subito da calcio d'inizio. Questa è un'altra statistica vergognosa, targata, Stefano Pioli. Io non so veramente con quale coraggio mi metterò qua a fare Milano Salernitana, perché io non lo so, non lo voglio sapere, e veramente mi viene il vomito a pensare. Perché poi, no, ora parlo dei follower su TikTok, perché su YouTube ce l'ho fatta a fare una cernita e riuscirò a colloquire soltanto con quelli che voglio io. Il Milan vince 5-1 col Cagliari, non esulta a nessun gol, vengo pesantemente insultato da Cani e da Porci. Perché non esultato per un 5-1 contro il Cagliari? Perché tanto era ovvio che la partita dopo succedesse questo. Tre gol subiti, un'altra volta. Tre dal Sassuolo, tre dal Genoa, tre dal Torino. E non mi venite a dire Eh, ma il Torino ha fatto la partita della vita, così mette fuori dai giochi il Napoli. A me non me ne frega un cazzo. A me non me ne frega un cazzo di cosa deve fare il Torino. Come non me ne fregava un cazzo di cosa doveva fare l'Inter nel derby. Come non me ne fregava un cazzo se l'Iventus poteva superarci nello scontro diretto. A me non me ne frega un cazzo. A me mi frega che tu vai a Torino e devi vincere. Punto. Tre anni di Juric al Torino. Tre anni, tre anni c'è stato Juric al Torino. 0-0, 2-1, 3-1. Se questo è un allenatore... Non Juric. Juric è un allenatore. È molto più allenatore di quanto voi pensiate. Non vi preoccupate. Se questo, Pioli, è un allenatore fatemelo sapere perché io non ce la faccio e se d'accordo. Ho netta difficoltà a essere d'accordo sul fatto che Pioli sia un allenatore. Perché se... A parte invertite. Se Pioli avesse allenato il Torino. A parte sarebbe già retrocesso dieci giornate fa col gioco che ha. Pioli non... Non riesce a difendere con... Tomorica, Lului, Ciao, con tutto rispetto. Non so come difenderebbe con Masina, Ricci e Buongiorno. Non ne ho idea come Pioli possa mettere in piedi una difesa con quei giocatori lì. Milan avrebbe vinto 3-4-0 stasera. E si è dimostrato dagli individualismi pochi che ha avuto. Individualismi che come sempre portano al 99% delle reti del Milan. Perché io vi ricordo vi ricordo e straricordo che l'ultimo gol in campionato frutto di un'azione corale è il gol dell'1-0 a Empoli il giorno 7 gennaio 2024. Di lì in poi tutti i gol o errori degli avversari o rimpalli o rigori 2 o casualità o palle in mezzo all'area o soprattutto individualismi di giocatori. Perché del resto non c'è sostanza. Non c'è un cazzo. e ci siete soprattutto voi che domenica andrete allo stadio per perché siete abbonati o per salutare Girù. Ma vaffanculo davvero. Ma state a casa. State a casa ragazzi. Domenica prossima lo stadio vuoto ci deve essere. Lo stadio vuoto. Ah e vi ricordo il secondo posto non vuol dire un cazzo. Cerco di farvi entrare in questa ottica dicendovi che il secondo posto non significa nulla. Che c'è è vero ci sono tante squadre che vorrebbero pagherebbero per essere al nostro posto e essere solamente secondi in classifica. Lo so. Lo so. Però vi sfato un mito il secondo posto non porta trofei non porta niente e porta solo rodimenti di culo. Detto questo ragazzi mi tocca pure montare live reaction. Grazie Pioli che mi farei passare una notte di merda col tuo gioco del cazzo. Ci vediamo con l'ultima e che sia l'ultima e che sia veramente l'ultima. Ma speriamo.